Bentornati ragazzi, finalmente riprendo a registrare, come vedete all'interno anche del nuovo studio di registrazione. Nel nuovo video di oggi cosa vedremo? Cosa succede quando cambiamo il diametro del nostro nozzle o ugello? Come al solito a corredo di questo video trovate anche un bellissimo articolo che ho scritto, lo trovate linkato nella descrizione del video. Se guardate sono quasi 11 pagine, si me lo sono stampate come traccia da seguire per il video. Io vi consiglio, dategli una letta perché nel video si riuscirò a spiegare qualcosa, però leggendo l'articolo è sempre sempre un passetto in più. Ci sono dei dati, ci sono dei link a degli studi da andare a leggere, un sacco di foto e tutto quanto. Prima di proseguire vorrei ringraziare tutti i nostri patrons, ormai sono diventati tantissimi come potete vedere in questa immagine in sovrimpressione. Ed è grazie anche a loro se questo studio dedicato ha preso forma e grazie veramente. Se volete diventare i nostri supporter qui in alto oppure sotto nella descrizione trovate il link per accedere alla nostra pagina Patreon. Andando a sodo vediamo un pochettino come affrontare questo cambio diametro del nozzle. Se cambio il diametro del nozzle, che cosa devo cambiare? Punto di domanda. Dove devo andare a intervenire? Devo modificare il firmware? Devo fare... Nulla di tutto ciò. Dobbiamo fare pochi ma semplici passaggi. Prima di tutto vorrei anche, prima di dirvi come fare, vorrei anche farvi capire perché si cambia il diametro del nozzle. Vi ricordate quel video all'inizio che ho fatto due anni fa, ormai sì, poco più di due anni fa? Ve lo linko anche qui sopra, dove parlavo di risoluzione di stampa. Dobbiamo stare molto attenti a quando selezioniamo l'ugello, al fatto che il diametro del nostro ugello ci limiterà nella risoluzione massima o risoluzione più grezza, come vogliamo intenderla, quindi l'altezza del singolo strato depositato sarà direttamente dipendente dal diametro del nostro ugello. Nel video ho anche spiegato come, in pratica, l'altezza massima del nostro strato di stampa sarà pari a circa l'80% del diametro del nostro nozzle. Quindi se stiamo lavorando con un ugello da 0.4 mm, l'altezza massima dello strato sarà 0.32. Se passiamo però a un ugello da 0.8 mm, allora lì le cose cambiano, se fate un attimino i conti. Quindi uno dei primi aspetti che una persona analizza quando vuole cambiare il diametro del nozzle è relativo all'aumentare, quindi velocizzare il tempo di stampa. Sappiamo tutti che stampa 3D è biblica, ok? Quindi usare un ugello di diametro più grande ci permette di lavorare a strati molto più alti e quindi diminuire il numero di strati depositati. Contrario però, attenzione, non cambia, attenzione, mi raccomando, non cambia il fatto che noi possiamo comunque lavorare a altezza di layer molto sottili. Cioè cambiare il diametro ci permette solamente, cioè ci limita solamente nello spessore massimo, ma lo spessore minimo rimane sempre un vincolo relativo alla struttura della nostra macchina, quindi che tipo di barre montiamo, che tipo di viti, che tipo di movimentazione in Z montiamo, dalla bontà dei nostri motori, i driver, la risoluzione dei motori, eccetera, eccetera. Quindi anche se usiamo nozzle da 1 mm di diametro, tranquilli, si possono fare anche strati sottili 0.05 mm, senza problemi. Lì il problema non risiede tanto nel nozzle quanto nell'estrusore, nei motori, eccetera, eccetera. Tutte quante quelle belle cose. Quindi con il diametro del nozzle noi siamo vincolati al massimo, ma non al minimo. I maggiori benefici che otterrete utilizzando nozzle più grandi sono ovviamente quelli relativi alla velocità di stampa. Inoltre anche i pezzi tenderanno a irrobustirsi molto di più. Perché? La prima cosa che dobbiamo andare a modificare quando cambiamo il nozzle, il diametro, scusate, del nozzle, è la nostra extrusion width. Non sai che cos'è? In alto ci ho dedicato, anche qui due anni fa, quasi, un video interamente dedicato. Dagli, ferma, ferma questo video qua, dagli un occhio e poi ritorna, ritorna a vederlo. Una volta che ti sarai chiarito bene che cos'è la extrusion width, capirai da subito che utilizzando un ugello più largo, ovviamente, la quantità di materiale depositato, o meglio, la larghezza del singolo cordone depositato di filamento, quindi un passato l'ugello, normalmente noi utilizziamo extrusion width pari a che cosa? Vi ricordate quella regolina che avevo spiegato? Diametro dell'ugello più circa il 20%, quindi se abbiamo un ugello da 0.4 mm possiamo tranquillamente tarare la nostra stampante su un extrusion width da 0.45 mm. Provate a immaginare un ugello da 0.8 mm, lì possiamo iniziare a lavorare con extrusion width da 0.9 mm. Quindi provate a pensare alla velocità di stampa, è dovuta sì anche all'altezza dello strato che è più alto, quindi ci mette meno tempo, ci mette meno strati, ma anche per i loop e i perimetri. Non ti ricordi cosa sono i loop? In alto sempre trovi un altro bel video che ho fatto dedicato sui loop. Provate ad immaginare, la nostra parete, che ne so, è normalmente da... vogliamo fare una parete da 1.8 mm. La nostra larghezza di extrusione di base è 0.45 mm perché montiamo un ugello da 0.4 mm. Passiamo a un ugello da 0.8 mm, gli mettiamo una extrusion width di 0.9 mm. Vedete che prima ci vogliono 4 loop per fare 1.8 mm, quando invece passiamo a un extrusion width da 0.9 mm, quindi con l'ugello molto più grande, ci basteranno solamente 2 loop in quel caso lì. Quindi vedete che tutta questa serie di cose ci aiuta a migliorare la velocità di stampa. Inoltre, come dicevo prima, migliora anche la resistenza del pezzo perché l'adesione tra un layer e l'altro sarà maggiore in quanto ci sarà anche maggior superficie di appoggio tra un cordoncino depositato e l'altro. Oltre al fatto che la ragnatela interna, quindi l'in-fill, avrà uno... non è uno spessore, scusatemi, una larghezza, anche qui parliamo di larghezza di extrusione, molto più ampia rispetto a utilizzare banalmente un ugello da 0.4 mm oppure inferiore. Ti starai dicendo, cavoli, allora prendo solo ugelli da 1 mm, tanti saluti e siamo a posto. No, non funziona proprio così. Se il 99% delle volte noi utilizziamo ugelli da 0.4 mm, un motivo c'è. Perché? L'extusion width, vi spiegavo prima, aumenta con l'aumentare del diametro del nozzle. Bene. Più aumentiamo, più questo cordone è largo e più dov'è che perdiamo? Perdiamo nella riproduzione dei dettagli. Eh, questo è un dettaglio non da poco. Provate a pensare. Guardate questa immagine qui. Vedete questa scritta, questi testi? Ok. A 0.4 si vedono bene. A 0.6 iniziano già a perdersi qualche lettera. A 0.8 proprio praticamente le letterine più piccole si perdono. Quindi il diametro del nozzle vi indica anche e soprattutto che tipo di particolari potete andare a riprodurre. Quindi se abbiamo uno 0.8 e i nostri particolari del riprodurre sono da 0.50 mm, non ce la faremo. È un po' come dire prendo un'uniposca e mi metto a ricalcare, che ne so, i lineamenti di un volto che trovo su una cartolina grande 10x15. Quindi di solito lì ci vorrebbe una matita a punta fina, ma con un'uniposca faccio un pastrocchio e non ne vengo fuori. Quindi quando molte volte leggo in internet, ma non mi ha stampato, io li ho disegnati ma non li vedo stampati nell'oggetto. Non è che non li vedete stampati nell'oggetto. Andate a guardare prima di tutto la visualizzazione di anteprima che vi dà lo slicer. Se non li vedete nello slicer vuol dire che non riescono ad essere riprodotti per quel tipo. Cioè sono troppo piccoli da essere riprodotti. Quindi non vi spaventate, non è la macchina che si inventa Ehi, oggi non ti faccio questi particolari perché non ho voglia. Semplicemente perché non ce la fa a farli. È quello il punto. E allora mi dirai, cavoli, prendo gli ugelli a 0.2, monto quelli, ciaone. Cioè nel senso faccio stampe ultra minuscole, dettagli super dettagliati. Beh, bel termine. E però c'è un piccolo problema. Ricordi all'inizio del video quando dicevo che l'altezza dello strato massimo è dettata sempre dal diametro dell'ugello o meglio dall'80% del diametro dell'ugello? Ecco, prova a immaginare. Stai lavorando con un ugello a 0.2. Cavoli, vuol dire che tu più di 0.16 massimo 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 millimetri non puoi andare. Quindi già la stampa 3D è biblica. Già la stampa 3D è biblica come tempi. Eh, qui iniziamo a raddoppiare, triplicare i tempi di stampa. Anche perché lì ritorna in gioco sempre la extrusion width. Mentre prima con l'ugello che ne so da 0.8 facciavamo dei cordoni belli larghi, ok? Quindi ci bastavano solo due loop per fare 1.8 millimetri di spessore di parete. Vedete l'esempio di prima. Con l'ugello a 0.2 anche l'extrusion width va, la larghezza di estrusione va di pari passo. Quindi con l'ugello a 0.2 più di 0.22, 0.23 non andiamo? Eh, cavoli, anche qui ci vogliono un sacco di loop in più per fare la stessa larghezza di parete che volevate prima. Quindi, your choice, la tua scelta è libra. Però devi provarli. Qualche piccolo segreto invece relativo ai diametri. In particolare ritorno sempre nel diametro grande perché per certi versi vi porta sempre qualche vantaggio in più rispetto all'ugello di diametro piccolo. In particolar modo, se cercate di fare stampe il più trasparenti possibili che sappiamo benissimo che trasparenti non saranno mai però per aumentare la traslucenza delle nostre stampe utilizzando, che ne so, dei PETG clear, dei PETG trasparenti utilizzare diametri grossi di nozzle e altezze di strato molto, molto, molto ampie cioè molto alte, quindi vuol dire, che ne so, 0.7, 0.8 mm e extrusion width molto ridotte aumenta, diciamo, la trasparenza del nostro oggetto. Lo studio lo trovate sempre all'interno dell'articolo che ho scritto nel sito. Dovete usare materiali caricati quindi il wood che hai caricato legno il bronze fill quelli caricati con particelle di alluminio quelli un po' i filamenti cosiddetti esotici che hanno un po' di tutto dentro che hai mescolato chi li utilizza con ugelli piccolini quindi 0.35, 0.3 eccetera eccetera pensiamo ad esempio a un wood ecco se li trovano intasati in 3 nanosecondi quindi sì, attenzione potete tranquillamente anche basare la vostra scelta del diametro dell'ugello sul materiale che state utilizzando in particolar modo sulla gomma ecco, gomma sui materiali flessibili portate pazienza voi sapete che è una bestia nera per tutti quanti stampare i materiali flessibili chi ha il Bowden chi ha il Direct Drive eccetera eccetera però in entrambi i casi utilizzando ugelli dallo 0.6 in su per stampare la gomma eh cavoli si migliora notevolmente il flusso quindi il materiale riesce a uscire senza impedimenti e non si attorciglia nella ruota godronata cosa molto frequente in particolar modo noi utilizziamo ugelli da 0.6 e ci troviamo veramente bene oltre al fatto che con un ugello a 0.4 siamo anche limitati con la gomma ad esempio a viaggiare a temperature a velocità molto molto basse più aumentiamo il diametro dell'ugello più possiamo salire anche con le velocità di stampa giunti a questo punto è anche lecito farsi una una piccola domanda ma in Internet si vedono ugelli da pochi centesimi vedete Aliexpress o Banggood cosa offrono mentre da altre parti si vedono ugelli che costano anche 30 40 50 60 70 euro ma c'è realmente differenza tra questi due ugelli oppure no? allora la risposta secca è sì c'è differenza c'è poco da fare la risposta invece un po' più lunga è dipende cioè dipende da cosa dobbiamo andare a fare perché prendiamo ad esempio un ugello in ottone che costa in media un euro prendiamo indicativamente eh andate a vederlo analizzatelo con microscopio e tutto vedrete che qual è la differenza principale tra un ugello da un euro e un ugello che ne so da 15 euro sempre in ottone sempre in ottone o comunque sia tra i vari tipi di ugello dello stesso materiale allora la differenza principale la fa il tipo di materiale la lega utilizzata ma soprattutto il tipo di lavorazione la finitura di lavorazione ok? se e qui ci vuole microscopio però bisognerebbe andare anche a vedere la rugosità interna come sono fatte le cavità ok? perché provate a guardare un ugello sezionato a metà non tutti sono uguali non tutti hanno una camera di estrusione eh perfettamente a V alcune hanno uno scalino altre sono completamente eh a V eh lì ogni produttore studia studia il suo flusso e infatti non tutti gli ugelli possono andare alle stesse identiche velocità ok? ogni ugello ha un un suo flusso massimo di materiale che riesce a ad estrudere ogni ora parliamo quindi di rugosità interna eh come viene tornita la parte esterna il filetto la qualità del materiale ovviamente ma soprattutto il dia il diametro del foro l'avete mai controllato? voi siete realmente certi che sia da 0.4 oppure quello che realmente è scritto sulla ghiera? ecco sui i i i i i gli ugelli cinesi vi dico per esperienza mia ordinati 100 ugelli se andavamo lì a guardarli anche ad occhio nudo vedevamo che c'era scritto 0.4 ma si vedeva ad occhio nudo che quello era 0.4 quell'altro minimo minimo era 0.5 così come ci è capitato di vedere degli 0.3 eppure c'era scritto 0.4 a sopra quindi se ci basiamo solo su quello che leggiamo eh bisogna stare attenti più andiamo su di prezzo e più troviamo anche una migliore diciamo una migliore uniformità più andiamo su di prezzo e più queste cose insomma eh non le vediamo diametri sono costanti soprattutto non vengono ovalizzati e la rugosità interna dell'ugello è diciamo non è rugosa è bello bello liscio non ci sono scarti di lavorazione però andando un po' più nel dettaglio eh cosa possiamo trovare sul mercato ugelli in ottone classico quello che che utilizziamo tutti ha il vantaggio che costa poco e costa poco si lavora alle macchine utensili in maniera eccezionale ha un'ottima eh indice di di condizione termica quindi riesce a trasferire tutto il calore all'interno della camera di estrusione quindi al filamento che si dovrà affondere ehm si ritrova si trova dappertutto lo potete trovare su Amazon su AliExpress Banggood ovunque prezzi variabili tra i pochi centesimi e i 15-16 euro però ha un piccolo piccolo svantaggio per chi lo utilizza con materiali eh estremamente abrasivi eh noterete subito come vedete da questa foto che la puntina inizia a mangiarsi non solo il canale interno si consuma proprio ma proprio anche la parte esterna si si consuma un po' come sfregare costantemente un un metallo sopra un altro un altro oggetto abrasivo è dai 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 si consuma quindi per chi utilizza materiali caricati che ne so carbonio vetro oppure metalli o comunque sia quei materiali abrasivi considerati abrasivi principalmente carbon e glass eh è consigliato passare agli ugelli di è consigliato passare agli ugelli di in acciaio ok qui in acciaio abbiamo il pio economico anche lì li troviamo su qualche euro cambia cambia la lega non è pio ottone è acciaio hanno una condizione termica leggermente inferiore rispetto leggermente inferiore rispetto al all'ottone quindi vi ritroverete sicuramente a stampare un po' più lenti rispetto ai nozzini in ottone e alle volte dovrete anche aumentare di qualche grado la temperatura di estrusione dopo gli ugelli in acciaio normale ci sono quelli in acciaio indurito che hanno un trattamento superficiale di indurimento che praticamente li rende quasi eterni e per chi utilizza materiali caricati questa è la scelta è la scelta diciamo migliore esistono anche ugelli in acciaio inossidabile che sono per lo più indicati per chi deve fare il stampa di tipo di tipo medicale quindi donne per il contatto con la pelle o meglio ancora quando si devono utilizzare filamenti per per il contatto con il cibo quindi idonei per il contatto alimentare non utilizzate ugelli in ottone utilizzate ugelli in acciaio inossidabile passiamo a ugelli di tipo in titanio ci sono quelli in titanio poco diffusi molto costosi anche qui eterni però un po' più difficile da lavorare in titanio in questo caso rispetto all'ottone ovviamente molto più difficile e l'avrete sentito nominare tantissimo il famesissimo Olson Ruby l'Olson Ruby non è altro che un ibrido quindi è un ugello in ottone di fondo quindi ottima trasmissione del calore però all'interno o meglio nella parte terminale quella che si consuma principalmente hanno innestato un inserto di rubino quindi quel rubino lì non lo non lo rompete non lo macinate non lo graffiate lui va lui va tranquillo non si consumerà praticamente mai un ugello che in media si trova tra i 40 e i 60 euro in giro quindi è ottimo sì ottimo veramente ha un costo non indifferente segreto hai mai notato che ci sono tantissime forme esterne dei vari ugelli trovi quelli tanto più a punta e quelli invece che sono un po' più piatti non so se ci ha mai fatto caso guarda guarda bene questa immagine e seguimi un attimino guarda quello con la punta a tronco di cono un po' più accentuato noti che attorno al foro dell'ugello c'è un po' più di battuta ok c'è come una sovrabbondanza di materiale dell'ugello ok ecco questa qui è completamente diverso da avere un ugello a punta perché vedi quello a punta di fianco ha praticamente il foro e di fianco non c'è non c'è niente ok questo cosa vuol dire provo a guardare questa immagine se ricordi anche il video dell'extrusion width che ti ho detto eccetera eccetera la parte della battuta aiuta il materiale a schiacciarsi un pochettino quindi ricordi quella regola che ti ho detto diametro dell'ugello più il 20% per determinare la extrusion width iniziale per dopo iniziare a fare tutte quante le calibrazioni del film wall test eccetera eccetera questo vale per gli ugelli con la battuta così larga mentre se utilizziamo degli ugelli veramente così tanto a punta ecco lì bisogna stare attenti con l'extrusion width mettergli un più 20% di partenza ecco non è il massimo non è il massimo perché quel tipo di ugelli richiedono di essere calibrati praticamente quasi giusti al diametro al diametro di riferimento che viene scritto stampigliato oppure che avete verificato voi magari con un alesametro quello che vi posso dire anche qui utilizzare uno o l'altro allora il più il più comune da utilizzare è ovviamente quello con la battuta larga di fianco al foro dell'ugello si trovano anche in versione a punta attenzione perché esistono quelli a punta a punta a punta a sottile e quelli a punta ma con un po' di battuta oppure quelli schiacciati tipo le 3D quello più comune quello classico quale utilizzare e quando utilizzarlo quelli a punta a punta iper sottile vanno calibrati come detto prima perfettamente sul diametro dell'ugello e vi permettono di fare stampe con dettagli sensibilmente migliori ok oltre al fatto che componenti piccoli provate a pensare a un cilindro che va su da solo e quindi l'ugello rimane sempre nello stesso punto scaldando molto quella parte lì ecco l'ugello se date un'occhiata la V è diciamo porta distante l'ugello dal pezzo ok la massa radiante è un po' più distante rispetto a che ne sa un ugello un po' più schiacciato quindi in quel caso lì il materiale riesce a raffreddarsi meglio stiamo parlando di piccole cose però se sommate alla fine voi direte ah si cavoli però se devo fare questo oggetto magari metto questo ugellino qui e via quello che però dovete stare attenti è che è un po' più fragile cioè se quell'ugello lì prende una botta molte volte tende a già inclinarsi il diametro il foro in uscita quindi attenzione a non schiantarlo contro il bed perché altrimenti si danneggia subito dall'altra parte invece degli ugelli con una battuta larga cosa è possibile fare è possibile addirittura mi è capitato con ugelli a 0.4 arrivare ad avere extrusion width superiori alla 0.5 siamo al limite dopo se andiamo troppo oltre ecco il materiale inizia a sbordare dai lati ok cosa che succede negli ugelli a puntina sottile se li sbagliamo andiamo troppo oltre col flusso il materiale sborda e vi crea delle vibrazioni sul pezzo viene fuori una schifezza viene fuori fondamentalmente quindi con gli ugelli a battuta larga noi riusciamo a spiaccicare di più il materiale quindi usare extrusion width un po' più larghe e quindi velocizzare i tempi di stampa e tutto quanto però di contro occhio che perdiamo perdiamo in livello del dettaglio inoltre inoltre per chi utilizza la funzione ironing di cura gli ugelli con la battuta più larga riescono a diciamo a sfruttare meglio questa opzione di ironing per chiudere meglio la superficie del top degli oggetti prima di concludere il video facciamo un rapido recap quando cambiamo il diametro del nostro nozzle cosa dobbiamo andare a fare beh innanzitutto lo scegliamo in base al tipo di oggetto che dobbiamo andare a stampare ok dopodiché ricordatevi prima cosa nello slicer prendiamo e andiamo a modificare la extrusion width con le regoline che vi ho spiegato prima e anche in base all'ugello che montate che vi ho appena spiegato dopodiché andate a fare le calibrazioni di rito se non ve le ricordate qui in alto trovate il link per la calibrazione del thing wall test dopodiché selezionate il layer l'altezza layer del riferimento e poi ricordatevi di regolare tutta una serie di parametri aggiuntivi tipo la velocità di ritrazione quanto materiale viene ritratto quando deve fare i vari spostamenti nel pezzo quindi anche la retraction può cambiare a seconda del diametro di ugello che utilizziamo la temperatura di stampa ecco quando noi andiamo su ugelli molto grandi molto probabilmente dovremo aumentare la temperatura di stampa o banalmente diminuire la velocità se vogliamo aumentare la velocità dobbiamo per forza di cose aumentare anche la temperatura di stampa altra cosa che dovete fare è ovviamente sperimentare io non vi posso dire qual è il settaggio migliore ci sono un milione di filamenti in giro e non ho proprio la più pallida idea di come possano lavorare a 0.4 a 0.2 oppure a 0.8 oppure a 1 mm lo tenete addirittura delle volte che un ugello un filamento stampato con un ugello da 0.4 ha una certa finitura che ne so lucida lo stampate con un ugello a 0.8 da 1 mm opaca ok quindi dovete aspettarvi anche quel tipo di reazioni da parte del filamento non vi resta che sperimentare quindi provateli vi prendete una 5 6 ugelli li provate a stampare e ricordatevi non c'è da modificare il firmware come molti dicono eh ma devo modificare il firmware devo fare di qua devo fare di là devo fare di giù no c'è solo da modificare lo slicer di riferimento ok quindi prendete questi piccoli punti e fate le vostre prove siamo giunti finalmente alla fine del video come vedi anche un piccolo ugello nasconde tantissime cose da dire ricordati che in descrizione trovi il link all'articolo dove ho scritto tutto per filo e per segno se non l'hai ancora fatto dai un'occhiata anche al nostro libro lo trovi anche sul nostro shop online se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace se qualcosa non ti è non ti è chiaro vuoi chiedermi qualcosa scrivilo nei commenti qui sotto se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale cliccando qui sopra oppure supportaci su Patreon cliccando di qua per oggi è tutto ci vediamo alla prossima qui dal nostro nuovo studio di registrazione ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti